benvenuti a un nuovo combattimento tra lollo e sempre io carmela sempre la carmela ormai ho fatto tappa fissa qua ormai viene sempre qua mangia da noi a quanto pare le piace stare oggi facciamo un mini torneo di mortal kombat tra cui lollo è l'unico che possa giocare spacchiamo la faccia a Carmela perchè ha lasciato la suoneria al cellulare che spegne il cellulare che vuole andare in piatto vabbè adesso facciamo un miniscorpio nemmio torcero scoppio il bar con questo tanto lo sappiamo già come finisce perchè non sono anche chi sono i personaggi io vado a prendere l'unico che conosco visto cazzo di gioco che kratos giocato a google for world io prendo stati qua perchè non c'è anche piacerebbe essere rettore a capelli bianni forte che conosce l'artimartelpo calcolare è un po' più vestito andrei in giro io no no perchè se c'è la roba ma che c'entra no non mi trattare ma che c'entra è l'unico gioco dove parlano in italiano quindi capiamo qualcosa no mi sa che quella non ha parlato è l'unico gioco che io non so neanche come si ci... come si fa? ragazzi non me lo ricordo più forse con un r2 ok fermo un attimo che io non so come si fa combo è un game blade sì kratos che cerca di parare i colpi schifo da un altro pan 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 Sì amici l'abbiamo infilzata ma si infilzano le persone sì ma sto perdendo del sangue sì sì è un gioco molto violente non so come si gioca si ma io sto parando tipo cammela se fai r2 e l2 insieme fa l'x tu fai r2 e l2 insieme ma stai cercando di fare ma ah hai rotto un po' le balle si perchè te l'ha bloccata quando avete la x carica su ah vieni 1 o 2 ah ok ho preso la voca attenzione ragazzi ho capito che io sto tornando a farlo ma io paro con la x non pari con la x e come si parla? con r2 l r non ho capito r2 attenzione guardate come si piega non so giocare questo gioco aspetta fai start vieni che potevi squarciarlo in 2 potevi aprirlo distruggerlo vai adesso tocca a me no no che cosa non ho capito che cosa succedeva poi te lo faccio vedere io poi te lo fa vedere lui scusate io sto gioco è l'unico picchiaduro che mi fa perchè c'è tanto sangue perchè lui non ha coraggio allora costume 1 alternativa come hai fatto a farlo? start eh ma dimmelo prima queste cose come è dato l'altra sua è uguale solamente con la cannottiera e Ray-Ban minchia c'hai Ray-Ban c'hai Ray-Ban scusa aspetta strana vatti un po' più la che non ci vedo guarda che figa l'armatura alternativa di scorpion scusate scusate saluto cori mia grande fan è forse l'unica per adesso speriamo che ne vengono non vale non so giocare minchia lo stai scassando eh Lollo Lollo che rischia amici che incredibile eh no mi sembrava che Lollo fosse troppo strano guarda troppo oddio che cos'è successo e comincia a tirare i trucchetti di scorpion che merda fu un altro una persona che ha appena imparato a giocare no 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 aspetta aspetta non vale ma sei una pezza di me ma è R2 R2 e vince è molto facilità tra l'altro wow ciccio non ci so giocare tu ci giocherei si e no tutti i giorni L2 R2 L2 R2 è a tempo L2 R2 L2 R2 non lo so ma che vuoi dire che devo andare avanti a fare così no devi continuare a speciare L2 R2 però vicino e basta L2 R2 no mi ha preso x ray e ti spaccò e ti spaccò e ti spaccò ma io li faccio partire anche io che vergogna è una brava ragazza giocare così non vale contro una che non sa giocare e ci prova Carmela Carmela ci prova no no ma non vale adesso beccatevi sta mossa gente voi non sapevi cosa so di caro di fare allora sinistra giù sinistra triangolo adesso straffico il no stefan non puoi far niente beccati questa sign pam ahere ahah a2 a2 c'è tortura che ha ricevuto ahahahah 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 a2 e caffi di monall non lo voglio secondo posto poi ho già perso ah è vero Dovrebbe farlo contro di te Ma ho già vinto il primo gioco Cosa serve? Non c'è lo spareggio E vabbè fattelo contro Vabbè primo secondo terzo No, primo secondo terzo Ah vabbè finisce così Mi riprenderò con i giochi più facili Più facili Più, meno... No più facili Perchè di te Mortal Kombat è stato complicato perchè devi conoscere le combo E tu sei troppo stupido Così se tu ci giochi una quantità E ti sta bene E io no E ti faccio fare quella peggiore Ti riconosco altri Tutti gli scopi ho fatto quella più E allora perchè guarda tutte le incomosse Non le so a memoria E allora non farti friggio Ti potevo bruciare viva Ti potevo buttare giù dal palazzo Ti potevo togliere l'intestino Non me lo fendalizzare Potevo fare un sacco di cose Non dormi da più per colpa tua per altri 6 giorni Ciao Per questo torneo è tutto Ci vediamo al prossimo torneo Di Mortal Kombat No no Non si sa quando lo caricheremo Quindi lo caricheremo quando ci girare le palle Perchè questo qui l'abbiamo fatto per eventuali problemi Problemi Ciao ragazzi al prossimo video Ciao Ciao